Al campionato italiano di Ski Orienteering che è andato in scena oggi ad Asiago, le vincitrici dell'US Primiero sono Claudia Zanetele e Elena Jager, che hanno bissato così il successo già ottenuto lo scorso anno. Beh dai oggi siamo state abbastanza soddisfatte della nostra gara, abbiamo dato il nostro meglio senza gravi errori e siamo riuscite così a vincere. Ecco, dopo questo trionfo in campo italiano adesso vi aspetta un'importante trasferta di livello internazionale, precisamente all'Illehammer in Norvegia. Sì, partiamo domenica e speriamo di fare delle buone gare, dare il meglio di noi e fare dei bei risultati. Ecco, oggi qual è stato l'elemento che vi ha permesso di fare la differenza? Beh oggi era molto d'asciare e molto fisica come gara e credo che questo ci ha aiutato anche nel vincere. Chiudiamo così? Gabriele Cannella e Federico D'Aprà, oggi in particolare per Cannella un doppio trionfo, dato che anche ieri nella lunga distanza sei riuscito a vincere il campionato italiano. Sì, beh oggi essenzialmente essendo partito come secondo frazionista ho cercato di mantenere la posizione conquistata da Prà e sono riuscito comunque a mantenerla, ho fatto anche un bel margine e quindi ho amministrato la gara senza sforzare troppo diciamo, cercando di controllare sempre bene. Ieri sì è stata una bella gara, lunga, anche ieri sempre comunque mantenendo la concentrazione in vista anche degli europei che si terranno dal 30 in poi. Ecco oggi ad osservarti c'era anche il commissario tecnico Niccolò Corradini, credi sia soddisfatto della tua gara? Beh, bisognerebbe chiedere a lui, comunque beh, certamente io ho dato il massimo e quindi questo credo sia la cosa più importante, poi i tempi magari è difficile anche fare dei confronti però senz'altro io ho dato il meglio. Ecco Federico D'Aprà invece è un giovane che sta crescendo nell'ombra di un atleta ormai affermato come Cannella. Eh dai, cerchiamo di prendere spunto dal compagno di squadra per cercare di riuscire ad andare. Ecco oggi avevi una grossa responsabilità in gara però non ti sei fatto prendere dall'emozione e sei riuscito a guidare il tuo compagno al successo. Sì, inizialmente ero dietro, comandava Thomas Wittmann e in seguito sono riuscito a prenderlo e alla fine siamo arrivati assieme quindi poi Cannella è stato quello che ha fatto il lavoro più grosso diciamo. Niccolò Corradini oltre ad essere un grande campione di sciorientamento è anche il commissario tecnico della Nazionale. I tuoi ragazzi come li hai visti oggi? Ma direi che siamo quasi a posto, fra una settimana ci sono i campionati mondiali junio e i campionati europei assoluti. Partiamo per la Norvegia con diciamo delle buone aspettative, poi logicamente il campo internazionale è sempre difficile capire prima cosa... Io credo che potenzialmente abbiamo dei ragazzi da primi 10-15 al mondo, poi sarà il campo a dire. Ecco, invece un giudizio sui risultati di oggi e di ieri qui sull'Alto Piano di Asiago? Beh, qui sicuramente il posto è fantastico, l'arena di gara veramente potrebbe ospitare una gara di Coppa del Mondo. Quindi piste molto belle, la rete anche per lo scio è stata organizzata, battuta bene. Ci sono dei segnali positivi soprattutto dai giovani, ecco c'è un po' da lavorare sia tecnicamente che fisicamente. Però la strada che la federazione ha intrapreso sicuramente può portarci a grandi risultati. Ad Asiago non poteva mancare il presidente della Fiso Veneto, un Veneto che è grande protagonista nell'Orienteering. Beh, un Veneto protagonista ha iniziato il 2011 con questo campionato italiano di scio e quest'anno abbiamo l'onore di ospitare anche l'italiano di scio sempre qui sull'Alto Piano a maggio. E poi non dimentichiamo che ad agosto avremo il campionato del mondo di mountain bike, quindi le tre specialità dell'orientamento quest'anno faranno tappa proprio in Veneto. Ecco, campionati del mondo di mountain bike, orientamento che prevedono un grande afflusso di atleti e di persone. Ma è l'appuntamento dell'anno e saranno almeno 30 le nazioni partecipanti con 600 atleti presunti e previsti. Una settimana di gare e ben 8 titoli assegnati in quanto c'è sia la categoria elite che la categoria junior. Ecco, immaginiamo che l'organizzazione sia a buon punto questo. Ma l'organizzazione è a buon punto, sono state già ultimate le mappe e gli impianti gara e quindi ormai il lavoro è tutto in mano ai tracciatori che stanno definendo quelle che saranno i punti spettacolo, le partenze, gli arrivi e quindi ormai ci siamo, non manca molto. Ecco, campionati mondiali in casa, tutti si aspettano anche gli atleti italiani. Ma arriviamo da un bronzo prestigioso e importante dalla Valle in Portogallo lo scorso anno, giochiamo in casa, ci sono altri nomi importanti, anche Laura Scarabonati che rientra dopo un infortunio in campo femminile. Sì, ci aspettiamo, però scaramanticamente non vorrei dirlo.